Commettiamo tutto questo con il dottor Paolo Pescetto, founder nonché presidente di Redfish Long Term Capital. Un piacere averla con il dottor Pescetto. Buonasera, ben ritrovati nel 2024 come primo appuntamento. Per questo nuovo anno, grazie. Andiamo subito al mercato del lavoro. Un commento a caldo, 216 mila, ha sentito anche Steve Leesman, dice alla fine forse sembra anche più alto di quanto non appaia ad una prima vista. Ci dà una sua valutazione? Abbiamo visto il T-Bond salire al 4,1, adesso scende leggermente. Che valutazione a caldo dà, soprattutto alla luce delle prossime mosse di Jerome Powell? Sì, intanto ritornerei anche al dato di ripresa dell'indice del nostro mercato milanese italiano, in quanto non mi sorprenderebbe se durante questa intervista raggiungesse una parità. Vedo che sta, diciamo, sciorando i 20 centesimi in forte ripresa. Per commentare invece le notizie che lei ha dato, darei due letture. Allora, una è un po' la polemica che c'è stata nell'intervento di Leesman, che praticamente commentando il dato positivo comunque delle nuove assunzioni, ha criticato gli allarmismi spesso sui punti percentuali che vengono dati da società di rating che per pochi punti percentuali lanciano un allarme. L'economia americana è solida, tanto più che il dato positivo lo conferma delle nuove assunzioni e, come ha commentato lei, anche noi come italiani seguiamo a ruota questo dato comunque di migliore nazione all'interno dell'eurozona. Invece, per quanto riguarda il commento dei T-Bond o comunque del comparto obbligazionario, che comunque è più unito a livello europeo rispetto a quello che è il contesto italiano, e si deve leggere con le notizie di questa mattina appunto relative ai dati di inflazione dell'eurozona ancora alte. Perché comunque i tassi di interesse che ci affliggono un po' come appunto Redfish, che guarda un po' il comparto delle PMI, spesso sono le più deboli e quelle che hanno subito di più il rincano dei tassi di interesse, questi sembrano, il calo che si aspettava magari già nel primo semestre, sembra allontanarsi. E questo mi sembra veramente il dato più sorprendente e forse più preoccupante per i nostri imprenditori. Ha visto però che c'è una sorta di dicotomia. Nell'eurozona si torna a crescere come inflazione dopo 13 cali consecutivi, in Italia invece c'è una contrazione. Come lo legge questo dato? Beh, è una contrazione tra l'altro che va letta anche nei dettagli dell'Istat, che ha pubblicato appunto questi dati in controtendenza, specialmente dell'inflazione core, quella che è un po' più nazionalista relativamente al cibo, ai consumi, perché poi bisognerebbe entrare un po' nel dettaglio. Tanto è vero che spesso adesso vengono pubblicati dall'Istat anche i dati al netto dell'energia, che come sappiamo è più collegata al contesto internazionale. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che di fatto l'Italia, in termini di paese, di paese industrializzato, sta reagendo molto positivamente a questa crisi. Cioè di fatto da noi in Italia la crisi non c'è ancora. Se vogliamo l'unico dato negativo, come ho citato prima, è l'elevata incidenza dei tassi di interesse, che ovviamente essendo regati all'Euribor e quindi al dato europeo, faticheranno a scendere nel primo semestre. E questo porterà appunto delle difficoltà, specialmente per quelle aziende che hanno usato la leva in modo maggiore. Per cui anche chi sta attento a queste analisi andrà a vedere quelle che sono le aziende più indebitate nel nostro listino. Andiamo adesso ad alcuni casi del giorno. Volevo partire dal titolo Campari con il sito di milanofinanza.it perché io lo accennavo in apertura. Oggi Campari è tra i titoli peggiori con la Cina che ha avviato un'indagine sui liquori dell'Unione Europea. Praticamente la Cina ha stabilito proprio oggi un'indagine anti-dumping, questo lo vedete proprio dai colleghi delle agenzie, su alcuni liquori provenienti dall'Unione Europea come il Brandy, lo ha scritto il ministro del commercio di Pechino, in base al testo i prodotti interessati sono acquaviti ottenute dalla distillazione di vino o duva in contenitori di capacità inferiori a 200 litri. Questo per quanto riguarda il titolo Campari che sta perdendo oltre due punti percentuali. Con il sito di milanofinanza.it c'è anche l'altra storia del giorno, ovvero Saras, perché anche qui è interessante, Saras sta scendendo a piazza affari, lo vedete l'articolo del nostro collega Paola Longo di MF Newswire, si dice dopo le vendite di trafigura che scende al 13,2%, il titolo Saras sta scivolando del 6,5% dopo la vendita di 16,7 milioni di azioni da parte del trader di Commodities che ha ridotto la partecipazione dal precedente 15 al 13,22%. Per Equita si riduce l'appeal speculativo sull'azione Saras, dunque Tonfo da oltre 6 punti percentuali per Saras scivola 1,5 euro per azione dopo che il trader di Commodities trafigura ha ridotto la sua quota nel capitale del gruppo. Urion Holdings ha venduto circa 16,7 milioni di azioni, l'1,7% del capitale, tra l'11 e il 29 dicembre, a un prezzo medio di 1,69 euro per azione. Non so se segue questi due titoli Campari e Saras, ma rapidamente dottor Rapescetto, se non segue questi due titoli le chiedo una sua valutazione su questo inizio di anno. Abbiamo visto forti le banche, debole il lusso, male i semiconduttori con STM. Allora, come abbiamo più volte detto, Redfish si propone in una strategia value, quindi andare a seguire i trend e sicuramente in questo abbiamo più volte parlato di come le banche possano dare soddisfazioni anche almeno sino allo stacco del dividendo di quest'anno che sarà eccezionale per il comparto bancario. Quindi grandi soddisfazioni per chi volesse seguire anche nel primo semestre 2024 i principali titoli bancari come del resto anche lei ha ricordato in apertura. Per quanto riguarda Campari e Saras, sono due invece eventi spot che quindi non minano la solidità dell'azienda, però mentre se per Campari è un inciampo che sicuramente saprà affrontare come leader del suo comparto, poi ricordiamo che Campari non ha la Cina come suo mercato principale anche se ovviamente incide, tant'è vero che anche questa notizia fa sì una perdita importante ma stiamo parlando solo del 2%. Per Saras la notizia invece è estremamente più importante perché molti investitori contavano su questa presenza appunto di questo fondo importante quasi come se fosse un anticipo di un'eventuale scalata che quindi potesse portare dei guadagni notevoli. Il passo indietro ha assolutamente un po' stupito da cui anche l'incidenza della perdita molto più notevole rispetto al caso di prima della Campari che magari mi aspetterei anche di un rimbalzino nelle prossime giornate. Mentre per Saras è un discorso molto più strategico e forse chi è fortemente esposto su questo titolo potrebbe non poter recuperare nelle prossime settimane questa perdita. Grazie davvero al nostro ospite che si è prestato a commentarci a caldo sia il fronte del mercato del lavoro americano che anche questi casi del giorno a Piazza Affari. Un grazie e ancora auguri di buon anno alla dottora Paolo Pescetto founder e nonché presidente di Redfish Long Term Capital. A prestissimo.